In questo video voglio rispondere a un po' di domande che nessuno ha chiesto, ma alla fine potreste trovare interessanti. Perché uno dovrebbe usare Vim quando ci sono ide come via scopi che fanno di tutto e di più, compreso il caffè? Come siamo arrivati a Vim e NeoVim? E che differenza c'è tra Vim e NeoVim? Prima di continuare, ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Io farei iniziare la storia di Vim e NeoVim con l'inizio di Unix, nel 1969, quando Ken Thompson scrive l'editor di linea chiamato ED. Siamo negli anni 60, i computer venivano controllati dalle telescriventi, quindi come vedi niente monitor e l'output del computer veniva stampato su carta. La cosa importante da notare qui è che l'editor ED è parte integrale del sistema operativo Unix e questa informazione ci sarà utile più in là. Andiamo un po' avanti con gli anni e nel 1976, Bill Joy, all'epoca studente dell'Università di Berkeley, basandosi sul codice sorgente di ED, scrive l'editor di linea chiamato EX, che possiamo considerare una versione di ED meno ostica da utilizzare. Negli anni 70 però i computer si controllano con dei terminali che mostrano il testo, sì solo testo, niente grafica, su video. Bill Joy, per l'esattezza, utilizzava un terminale ADM3A. Questo dettaglio, apparentemente inutile, invece ci mostra da dove nasce una delle caratteristiche più famose dell'editor VI e di conseguenza di Vim e NeoVim. Diamo un'occhiata al layout della tastiera dell'ADM3A. Nota come le frecce per spostare il cursore corrispondono ai tasti H, J, K ed L. Quindi, tutti quelli che dicono in Vim utilizziamo i tasti H, J, K ed L per spostarci perché è più efficiente che spostare la mano per raggiungere i tasti delle frecce, non raccontano proprio tutta la verità. La verità è che le frecce nel terminale ADM3A si trovavano in corrispondenza dei tasti H, J, K ed L. E solo per una fortunata coincidenza c'è il fatto che non devi spostare la mano dalla riga base della tastiera. Ma torniamo a noi. Dicevamo che, visto che abbiamo a disposizione un terminale con un monitor, possiamo permetterci il lusso di spostare il cursore a nostro piacimento e di sovrascrivere anche solo piccole porzioni del testo visualizzato su monitor. Ed è proprio lo stesso pensiero che ha avuto BillJoy quando ha scritto un'interfaccia visuale per ex chiamandola VI. Tendo a precisare che siamo nel 1976, quindi quando parla di interfaccia visuale non parla di interfaccia grafica come lo intendiamo noi oggi, ma di interfaccia testuale a tutto schermo. Poi, altra limitazione dovuta al fatto che siamo negli anni 70. La comunicazione col computer avveniva alla folle velocità di 300 bit al secondo. Sì, bit, non megabit. Come si sa, la necessità aguzza l'ingegno. E quindi tutti i comandi di VI sono pensati per massimizzare l'efficienza con la minor comunicazione tra uomo e macchina possibile. Ora, VI diventa molto popolare, ma ha un problema. Essendo basato sul codice sorgente di ADD, e quindi contenendo del codice originale del sistema operativo UNIX, non può essere redistribuito senza l'autorizzazione della AT&T, che detiene i diritti su UNIX, rendendo quindi VI software non libero. Questo fa sì che negli anni nascessero dei cloni di VI che ne emulano tutte le funzionalità, ma senza il codice di proprietà della AT&T. Tra questi ricordiamo Calvin, conosciuto precedentemente col nome di FreeVI, noto per essere uno dei primi cloni di VI per MS-DOS. E sì, non c'entra assolutamente niente con la narrativa di questo video. L'ho incluso in questa lista solo perché sono un fanatico del DOS. Però, se vuoi un editor stile VI che gira bene anche solo su un Olivetti M24, Calvin è l'editor che fa per te. Sempre nello stesso anno abbiamo Stevie, originariamente scritto per Atari ST e successivamente portato sua amiga. Questo port sua amiga ci servirà fra poco. Nel 1990, Steve Kirkenthal rilascia Elvis, che è un clone di VI con diversi miglioramenti. Elvis è diventato immediatamente popolarissimo e negli anni 90 molte distribuzioni Linux incrodevano proprio Elvis come sostituto di VI. Oltre che per Linux, Elvis è stato usato anche come base di partenza per l'editor NVI usato sui sistemi operativi BSD. Poi, visto che non ho ancora stancato abbastanza col DOS, ti dico anche che Elvis è uno degli editor inclusi nella distribuzione di FreeDOS. E arriviamo finalmente al 1991, quando il compianto Bram Moulinard, basandosi sul portamiga di Stevie, crea l'editor Vim. Inizialmente Vim non aveva tutte le migliorie presenti su Elvis, ma col passare degli anni è diventata l'implementazione dell'editor VI più completa e potente di tutte, tanto che verso la metà degli anni 2000, Vim diventa l'implementazione standard dell'editor VI su praticamente tutte le distribuzioni Linux. Inoltre, Vim è stato portato su qualsiasi piattaforma possibile e immaginabile, e si ha indovinato anche su DOS. Facciamo un salto avanti fino al 2014. Vim ha due grossi problemi. Il primo è che pur essendo un progetto open source, rimane essenzialmente un progetto di Bram Moulinard, e non tutti sono d'accordo su come Bram Moulinard gestisca il progetto. Il secondo è che Clodice di Vim ha origine negli anni 80 e ci sono una marea di accrocchie apposta per supportare architetture che sono diventate obsolete ormai da decenni. Ecco quindi che nasce il fork NeoVim, con l'intento di continuare lo sviluppo di un editor compatibile con Vim, ma più aperto allo community e con lo scopo di rimodernare l'intera codebase, togliendo il supporto da architetture e sistemi operativi desueti. Quindi, quali sono a oggi le differenze tra Vim e NeoVim? Allora, cominciamo col fatto che Vim è un editor per programmatori, e quindi è altamente configurabile e supporta funzionalità aggiuntive mediante dei plugin. La prima differenza tra Vim e NeoVim, quindi, è che Vim ha inventato un linguaggio di programmazione per scrivere configurazione plugin chiamato VimL, o VimScript se preferisci, che è un'estensione dei comandi X. A meno che non ti chiami TeamPop, VimScript è ostico, lento e poi usato solo da Vim, quindi non è proprio il miglior investimento che puoi fare del tuo tempo. NeoVim, essendo basato su Vim, supporta ancora VimScript, ma in aggiunta ha integrato un interprete del linguaggio Lua, che a differenza di VimScript è un linguaggio di programmazione vero e proprio, molto veloce e facile da imparare. Inutile dire che Lua è il linguaggio preferito per scrivere configurazione e plugin per NeoVim. Tuttavia, visto che, come detto poc'anzi, NeoVim supporta ancora VimScript, tutti i plugin compatibili con Vim sono anche compatibili con NeoVim. Beh, non proprio tutti. Con l'uscita della versione 9 di Vim nel 2022, VimScript ha subito un aggiornamento sostanziale chiamato Vim9Script, che rompe la compatibilità con la versione precedente di VimScript, ma aumentando notevolmente la velocità d'esecuzione. Gli autori di NeoVim hanno scelto di non supportare Vim9Script direttamente, ma T.J. DeVries, uno dei maggiori sviluppatori di NeoVim, ha scritto Vim9Git, che converte gli script scritti in Vim9Script in Lua. Vim9Git attualmente è in fase sperimentale, quindi non è assolutamente detto che uno script scritto in Vim9Script funzioni su NeoVim. Una funzionalità unica di NeoVim è il supporto a Trisitter, che è una libreria che permette di fare un parsing molto accurato dei file che stai editando. Questo, in soldoni, risulta nel fatto che la sintassi colorata è molto migliore su NeoVim. Personalmente, questa è la funzionalità che mi ha fatto passare da Vim a NeoVim. Altra funzionalità unica di NeoVim è il supporto ai protocolli LSP ed App. LSP ed App sono le armi segrete di VS*** e sono dei protocolli che permettono all'editor di conoscere a fondo la struttura dei progetti su cui si stanno editando i file ed integrarsi con compilatori, debugger e tool di sviluppo vari. Questo risulta, in soldoni, nel fatto che tutte le funzionalità di refactor in autocompletamento e debugging presenti in VS*** sono presenti anche in NeoVim. E arriviamo finalmente all'ultimo punto del video. Perché uno dovrebbe usare Vim o NeoVim quando ci sono ide come VS*** che fanno di tutto e di più compreso il caffè? Per rispondere a questa domanda occorre prima di tutto capire che fondamentalmente ci sono due mentalità opposte, nessuna delle quali è più giusta dell'altra. Da un lato c'è chi, come me, abbraccia la filosofia Unix dove un programma deve fare una sola cosa e farla bene. Se segui questa filosofia, Vim o NeoVim è semplicemente un editor di testo, ottimizzato per scrivere e modificare testo nella maniera più efficiente possibile. Quindi, invece di chiederti, per esempio, come faccio il commit su Git da NeoVim, dovresti piuttosto chiederti come faccio il commit su Git utilizzando lo strumento migliore a mia disposizione? Ed ecco che, invece che cercarti un plugin per integrare Git su NeoVim, anche se ne esistono parecchi, cerchi piuttosto un programma apposta per semplificare le operazioni di Git. Tra parentesi, il mio preferito è l'EasyGit. L'altra mentalità è quella dell'IDE, o Integrate Development Environment, che tenta di integrare in un unico programma gigantesco tutte le funzionalità possibili ed immaginabili vagamente inerenti allo sviluppo di software, e l'editing di testo è solo una delle tante, anche se la più evidente. L'errore più comune è non capire che esistono queste due mentalità, e visto che ogni persona ragiona in modo differente, c'è chi si trova meglio a pensare che un editor di testo deve solarmente scrivere e modificare file, e c'è chi invece si trova meglio a pensare che un solo programma deve avere il maggior numero di funzionalità possibili. L'errore ancora più grosso è cercare di convincere una persona che ha una mentalità differente dalla tua, che la tua mentalità è migliore. Per decenni si sono combattute guerre di religione sugli editor, prima con VI contro Emacs e più recentemente di NeoVim contro VS***. No, abbiamo detto che ci sono due mentalità e che nessuna delle due è migliore dell'altra. Altro errore che vedo fare è uno che viene da VS***, prova NeoVim installando una valangata di plugin per renderlo uguale a VS*** e poi abbandona NeoVim perché è deluso. Hai visto l'errore qui dov'è? Gli errori qui sono due. Il primo è che volevi VS***. Se ti trovi bene con VS*** non hai nessun incentivo per cambiare, e va bene così, ognuno usa quello che più gli piace. Il secondo errore è che hai esteso NeoVim con una valangata di plugin, senza prima imparare che cos'è e cosa offre NeoVim da solo. Ma torniamo a noi. Perché utilizzo proprio NeoVim invece di, che so, G-Edit Sudunom? Ecco, per anni ho odiato VI in tutte le sue forme, e tutti i meme sulla difficoltà di uscire da Vim sono veri. Nei miei primi passi con Linux, quando per sbaglio mi trovavo dentro Vim, non avevo la minima idea di che fare o come uscire, e mi domandavo perché nel ventunesimo secolo si dovesse ancora utilizzare un editor degli anni settanta. Sono stato quasi obbligato ad usare Vim quando ho voluto ottenere la certificazione Red Hat RHCE, dove nell'esame era richiesto l'utilizzo di Vim. Allora mi sono detto che per imparare Vim lo uso come unico editor per una settimana, poi torno ad utilizzare editor normali. In quella settimana ho faticato veramente tanto ad imparare i comandi principali di Vim e mi sentivo un impedito. Finita la settimana, torno finalmente all'editor che stavo usando prima dell'esperimento di Vim, che non ricordo quale fosse perché sono passati troppi anni. E lì mi rendo conto che non sono più capace ad usarlo. Quindi mi sono trovato nella condizione che con Vim mi sentivo impedito perché non avevo ancora familiarità con i comandi. Con l'altro editor non riuscivo più a far nulla perché avevo iniziato a ragionare secondo i movimenti di Vim, che si estendono ben oltre i già citati HGKPDL, ma questo è un discorso per un altro video. Quindi alla domanda, ma perché usi proprio Vim e NeoVim anziché un altro editor di testo, la risposta è semplice. Sindrome di Stoccolma. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odissi. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao! Ma col passare degli anni è diventata l'implementazione del delito di... Ma col passare degli anni è diventata le... Ma...